Allora, decenni fa, nei primi anni Ottanta, era comparsa una serie da In Press, che poi è l'attuale Sergio Bonelli editore, firmata dai fratelli Missaglia. Questa serie si chiamava Jill, era, io mi ricordo ancora, la pubblicità sulle quarti di copertina degli altri pubblicazioni Bonelli, che diceva più o meno qualcosa del tipo c'è un cowboy in te, scoprilo con Jill. E l'immagine mostrava un uomo vestito di jeans con uno stetson a cavallo, che è più o meno l'immagine che vediamo nella copertina, firmata dal grande Michele Benevento, della ristampa della IF Edizioni, che dopo Jesus e Judas propone un altro personaggio, l'ultimo credo, dei fratelli Missaglia. Scusate il riflesso, insomma, comunque la copertina mostra un personaggio che nella versione di Benevento è oltremodo somigliante a Robert Redford. E adesso arriviamo anche alle varie somiglianze. Fratelli Missaglia, Ennio si occupa, come sappiamo, dei testi, Vladimiro dei disegni. E sono gli autori della prima storia eponima, ha lo stesso nome del protagonista. Mentre il secondo albo, I cani della notte, è una storia che verte sui biker, sull'ambiente dei biker, dei teppisti, centauri, e si intitola, scusate, è firmata sempre per i testi da Ennio Missaglia e dal veterano Ivo Pavone per quanto riguarda i disegni. Tra l'altro la collaborazione dei fratelli Missaglia con Ivo Pavone si rinnova dopo Judas e credo anche dopo Jesus, insomma. Ivo Pavone poi è una figura veramente eclettica e presentissima nel fumetto, non solo italiano, perché poi muove i suoi primi passi in Argentina. Ma devo dire che questa ristampa della Ivo l'aspettavo con un certo, insomma, con una certa, proprio, l'attesa era forte, perché è un personaggio che mi ha sempre incuriosito, anche se poi io all'epoca avevo letto, almeno ricordo un albo, ma naturalmente sono passati 40 anni, quindi, insomma, è molto difficile serbarne un ricordo preciso. Gil approda nell'edicole nel 1982 e tra l'altro segnalo anche un video molto bello e molto ben fatto da Gaspare di Aspano e i suoi fumetti, che è anche, diciamo, un po' una vista a volo d'uccello sul personaggio, perché Gaspare parla di tutti gli albi. Lui ha preso la serie completa originale, quindi ha già letto anche quello che io leggerò nel corso dei prossimi mesi e di gran parte del 2024. È un personaggio, secondo me, molto interessante, Gil, ecco, la copertina, dicevo, fa pensare a Robert Redford, in realtà il Gil che vediamo ritratto da Missagli e poi da Pavone ha dei lineamenti un po' più duri, se vogliamo, ecco, potrebbe, ogni tanto mi fa pensare quasi a un caratterista del cinema americano come Bo Hopkins. L'atmosfera rimanda a quel tipo di cinema degli anni 70, d'altra parte il fumetto è del 1982, quindi siamo lì vicini. Seppure nella nota introduttiva si fa riferimento a possibili, diciamo così, a possibili ascendenti cinematografici, si cita Un uomo da marciapiede di George Lessinger, forse, come dire, non prendendoci a pieno per quanto mi riguarda, anche se magari fisicamente il nostro eroe potrebbe richiamare un po' il John Voight, protagonista di quel film, e si cita anche Urban Cowboy di James Bridges con John Travolta, ma secondo me c'è un film che invece non viene citato e che i fratelli Missaglia devono aver visto e amato, ed è Solo sotto le stelle di David Miller, perché quel film raccontava un personaggio molto simile a Gil, cioè un uomo che in piena modernità, lì eravamo negli anni 60, decideva di abbandonare quella che è la civiltà, la vita urbana, e mettersi a girovagare per l'America a cavallo, perché questa è proprio la, diciamo così, la specificità di Gil, è quello che rende anche un pochino a volte poco credibili le sue avventure, cioè il fatto che lui si muove, anche privilegiando naturalmente gli spazi aperti, ma gioco forza per raccimolare qualche soldo cercando lavoro, si muove a cavallo e creando magari delle situazioni un pochettino divertenti, per esempio nella prima storia lui rimane coinvolto in un omicidio del quale verrà sospettato, deve allontanarsi a cavallo e allora viene da dire è duro far perdere le proprie tracce negli anni 80 scappando a cavallo, cioè diciamo sei abbastanza identificabile. Comunque, vabbè, a parte questo, e qui è giusto anche mettere un po' di sospensione dell'incredulità, va riconosciuto prima di tutto il buon gusto dei Missaglia nel riferirsi a un film così bello come il già citato Solo sotto le stelle di David Miller, dove il protagonista, non so se l'ho già detto, lo dico adesso, era Kirk Douglas, affiancato da Gina Rowlands e da un Walter Matthau drammatico, ma come sempre gigantesco. Volendo un altro riferimento lo si può fare, mi ci ha fatto pensare Massi Fusai, ed è il Cavaliere Elettrico, di Sidney Pollack. Torna Robert Redford, ma torna anche lo scontro, il cozzare contro una modernità che non si vuole assolutamente accettare. E Jill, secondo me, si pone con le stigmate dell'antieroe, anche se ricordiamo che prima di lui ce ne erano stati due di antieroi. Uno, quello che un po' ad ombra gli altri per superiore qualità e afflato poetico, cioè il sempre da me amatissimo Ken Parker, e l'altro è un personaggio che secondo me ha dei legami con Jill, ed è Mr. No. Perché Jill come Mr. No dice no appunto alla civiltà, al progresso, oppure pasolinianamente diciamo allo sviluppo. Dice no al rumore dei grandi centri urbani e all'alienazione che la vita nelle metropoli porta all'uomo. E come Mr. No è un reduce. Mr. No della Seconda Guerra Mondiale, Jill è un reduce dal Vietnam, guerra che si è concluso, un lustro prima praticamente. E affronta tutte le difficoltà del reinserirsi nella vita civile, tant'è che a un certo punto questa vita la rifiuta. Però se diciamo che Jill è un po' una risposta interna a Mr. No, perché se il nostro pilota decide proprio di abbandonare gli Stati Uniti, di tornare, quindi di perdersi, diciamo così, in una nazione che in qualche modo favorisce anche la scomparsa. Jill resta in America e quindi la sua è una guerra sul fronte interno. Privilegia con il suo girovagare l'America periferica, l'America profonda, ma come dicevamo ogni tanto è costretto ad affacciarsi nelle grandi città. Come vediamo nel primo episodio dove cerca lavoro appunto in una città, poi maglia e l'incoglie perché dicevamo è coinvolto in una storiaccia, in una storia di omicidio. Mentre nel secondo episodio lo vediamo anche lì muoversi in un paesaggio desertico, ma puntando alla città di Phoenix dove deve trovare una donna, un po' come Mr. No anche Jill non è insensibile al fascino femminile e questa è un'altra differenza con gli eroi storici della Bonelli, Tex e Zagor, è un amico, un ferrivecchi. Ecco diciamo che c'è un afflato veramente anarchico in Jill, una cosa che si nota leggendo queste due storie è la sfiducia nelle forze dell'ordine. Jill tenta di starne alla larga perché sa benissimo che c'è un pregiudizio verso gli uomini come lui, verso i vagabondi. Jill si definisce senza mezzi termini un vagabondo e d'altra parte coerentemente c'è l'attenzione alla gente marginale. Accetta facilmente l'invito di un barbone che gli offre da bere e che vuole scambiare due chiacchiere con lui, ma è altrettanto duro con quelli che possono essere, diciamo così, i suoi compagni di classe quando ritiene di doverlo essere. E quindi c'è proprio un anarchismo in Jill che è un po' l'individualismo che se vogliamo ci ha un po' nel bene ma anche nel male ci ha un po' comunicato. Tanta arte americana, la narrativa come il cinema insomma, molti eroi della letteratura americana sono degli irriducibili individualisti. Anche quelli più compromessi, se vogliamo, uso una parola sbagliata, diciamo anche più coinvolti con l'impegno. Penso ai personaggi di John Steinbeck per esempio. Però c'è sempre un fondo di individualismo. Ma Jill è un personaggio londoniano, cioè a me ha fatto venire in mente proprio certo Jack London. Solo che i discorsi di Jack London Jill li fa allo stesso modo un secolo dopo praticamente. Cioè c'è un orgoglio nel sentirsi marginali che non è mai percepito come un qualcosa di negativo o che riduca l'importanza della propria presenza rispetto alla società. Mi viene in mente uno dei libri più belli di Jack London, che non è un romanzo, un reportage, Il Popolo dell'abisso. Lì London incontrava il sottoproletariato inglese, proletariato e sottoproletariato, e lo raccontava. Lo raccontava ai lettori americani. Ed era interessante vedere come London contrapponesse la povertà americana a quella inglese. Perché quell'inglese era già in qualche modo iscritta in quella che era l'ormai compiuta rivoluzione industriale e aveva a che fare con un popolo di salariati o che desiderava esserlo, seppure trattati malissimo, mentre lui si percepiva come un uomo libero. Ora io non so se London era realmente un uomo libero. Io credo che la libertà sia una grande astrazione. Però tant'è. C'è questa idea comunque di sentirsi liberi, che ha un suo valore molto grande, molto profondo, e come tutte le cose, come tutte le medaglie hanno una seconda faccia, ha anche un suo disvalore che a mio avviso ci porta direttamente a certi movimenti deteriori come quello dei trogloditi che hanno dato l'assalto a Capitol Hill quando è stato due o tre anni fa. Mi sono forse un po' allontanato. Il fumetto ha in termini narrativi, se vogliamo, un'ingenuità di fondo che non appartiene neanche a Mr. No, diciamo, e sicuramente non appartiene a Ken Parker. Ma è comunque molto godibile a mio avviso e ho apprezzato molto anche il suo inserirsi nel tempo, che non lo rende datato. Si parla per esempio anche di scenari musicali, dei Kiss, che i Missaglia sembrano non amare molto per il trattamento che gli riservano. E diciamo che questi riferimenti servono anche per raccontare Gil come un uomo che la modernità la rifiuta in toto. Infatti c'è un'ultima sequenza dove va in discoteca con la sua bella e poi il rumore. In tutti e due gli albi c'è questo riferimento al rumore della città che Gil percepisce come qualcosa di terribilmente molesto. Il rumore lo spinge ad andarsene e, come tanti eroi del West, a lasciarsi alle spalle la donna che è sì un momento di ristoro, ma è anche un allontanamento dall'avventura. L'avventura che è anche il, come dire, lo scopo di questi eroi. Contenti loro, io starei con la donna, però mi rendo conto che dopo non ci sarebbe, come dire, dopo le serie finiscono, se non ho ragione in questi termini. Vabbè, il grande salto avverrà quando la compagna femminile diventerà parte integrante dell'avventura. Come, che so, come succede con le donne di Dylan Dog, con Martin Mister e Diana e come il, come sempre, pioniere Max Bunker ci aveva già un po' insegnato. Prosseguirò con questa serie perché mi sembra un personaggio che mi ha fatto piacere ritrovare, anche se non potevo dire di essere un suo conoscitore, ma ho proprio l'impressione che ci sarà, che sarà furiero di riflessioni interessanti nei prossimi mesi. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata, anche se qui a Rimini c'è un tempo di merda, piove, ma la pioggia è anche romantica. Non riesco a spegnere.